Un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, snodo col Vicenza dunque importante se non fondamentale in chiave salvezza. Gautieri recupera tutte le pedine assenti nell'infausto match di Livorno, difesa tipo con Almici terzino, Aquilanti centrale. In mezzo il Metronomo e D'Aversa di Cecco e Volpe interni davanti il rientrante piccolo insieme con Plasmati, Punta Vertice e Falcinelli largo a sinistra come in Toscana. Per contro è la Vicenza, terzo ultimo in classifica ma letale lontano dal menti, sotto la gestione dal canto quattro vittorie nelle ultime cinque trasferte. Sistema speculare 4-3-3, Ceramitaro, Nicola Rigoni e Castiglia centro campo, in attacco il tridente Bellazzini, Malungà, Semioli. Parte bene l'undici Veneto, Malungà va via ad Amenta, invito al centro Semioli di prima intenzione, contratto dal Mici, deviazione, palla a sfiorare la traversa. Splendida la diagonale difensiva del terzino rossonero. Virtus contratta, piccolo prova a scuoterla, sinuro da fuori, Bremec in angolo sugli sviluppi del quale Mammarella indugia nel possesso. Contropiede ospite, volata di Bellazzini che serve Malungà il francese tutto fisico, si gira in area, conclude, vigile le ali. Il portierone Frettano si distende e neutralizza. Replica Virtus al minuto 23, punizione dalla tre quarti. Ottima scelta di tempo di Aquilanti che sbuca dal nulla, colpo di testa, brivido per il team di Dalcanto che soccombe al ventinovesimo. Corner di piccolo, daversa in avvitamento, Bremec scavalcato, padalino respinge ma non è sufficiente. Plasmati, Lex da zero metri, non perdona. Sesta rete stagionale, quarta in maglia rosso-nera. Subito dopo, trentaduesimo. Baracani vede un colpo proibito di Semioli su Almici, cartellino rosso francamente eccessivo. Vicenza in dieci, sotto di un gol, spartiacque della partita. Il Lanciano dà ampiezza al gioco. Trentottesimo, piccolo, più un tiro che un cross. Lazco su Plasmati, arriva di Cecco. Bremec sventa ma la Virtus manca ancora un penalty come già accaduto a Livorno. Due minuti più tardi, trentottesimo, Falcinelli sfugge a Camisa, invito al centro, Castiglia ci mette il piede, intervento improvvido. Due a zero Virtus, risultato in ghiaccio. Allo scadere, lanciato in contropiede, piccolo, punta il suo di Ripettaio, rientra sul sinistro e impegna Bremec. Ancora bravo in avvio di secondo tempo l'estremo Vicentino quando sbanaccia il cross morbido di piccolo, altrimenti destinato a Plasmati. Nel frattempo Dalcanto aveva ripristinato l'attacco a tre punte, Giacomelli ex Pescara in campo al posto di Castiglia. Una sorta di 3-3-3 a turno, si alzano infatti Padalino a destra, Lazco a sinistra a sostegno della manovra di centro campo. In realtà un solo pericoloso effetto, l'acrobazia in bello stile, da applausi di Dominique Malonga, francese di origini congolesi, di un niente a lato. Finisce 2-0, la prima volta nel girone di ritorno senza incassare gol, ma soprattutto vittoria pesantissima in chiave salvezza. La partita dal punto di vista tattico, dove l'ha vinto il Lanciano? L'abbiamo vinta sulla cattiveria, sulla voglia di credere su ogni situazione che abbiamo provato e abbiamo fatto durante anche la settimana. siamo passati in vantaggio, a mio avviso, anche meritatamente, perché comunque abbiamo creato qualche occasione già importante contro un'ottima squadra, dove a mio avviso era venuto qui per fare la partita, avendo anche giocatori di grandissima qualità in campo. Poi con l'espulsione del giocatore del Vicenza siamo stati bravi a raddoppiare e a gestire la gara nel modo giusto. Se qualcuno inizio anno, Carmine, avesse detto prima di Pasqua, Lanciano supera già quota 40 punti, cosa avrebbe detto? Se l'avessero detto a te? Io ci potevo credere. Ci potevo credere poi allora. Credo che loro siano entrati in campo con tanto piglio e tanta voglia di far bene. Sapevano loro e sapevamo noi che era una gara importantissima e il fatto che comunque siamo riusciti a vincere è un grande risultato. Perché allontanare di tanto la zona rossa, perché poi c'è quella anche arancione, era importantissimo. Dal canto partita equilibrata fino allo 0-0, poi lì Lanciano ha meritato di vincerla. Ha fatto il gol e siamo rimasti in 10, poi diventa complesso in questo momento qua per noi, soprattutto vista la situazione di classifica che abbiamo. Rimediare ogni volta a situazioni complicate, ora non so se l'episodio sia da espulsione o meno. Il fatto sta che rimanere in 10 dopo lo svantaggio è stato estremamente penalizzante, anche se la squadra secondo me è stata ordinata anche in inferiorità numerica. Classifica preoccupante. Sì, la classifica è difficilissima. Per le prossime 3 o 4, le cose sono ancora aperte. È chiaro che nelle prossime 3 o 4 gare non dobbiamo sbagliare niente.